L'adozione è una scelta d'amore e di coraggio, secondo me l'adozione è una scelta d'amore e di coraggio. Ho conosciuto tante coppie che hanno deciso con grande coraggio e grande amore di adottare un bambino privo di famiglia. Sono state per me vicende particolarmente emozionanti. L'adozione è una scelta d'amore e di coraggio, perché rappresenta uno slancio di altruismo importante, ma è importante anche verificare quali sono le vere ragioni a fondamento della richiesta di due genitori di adottare. L'adozione non può essere un modo per colmare un vuoto genitoriale. L'adozione deve essere una propensione ad aiutare un bambino in difficoltà, un bambino abbandonato. Togliere da un internato un bambino e garantirgli una famiglia, perché vi posso garantire che i veri genitori adottivi sono innamorati di questi ragazzi al pare se non di più dei genitori biologici. Io sono sempre dell'idea che i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. E quindi ho tante storie che io posso ricordare in questi anni. Ma come funziona l'adozione internazionale? Che cos'è? In cosa consiste? Allora, per adottare ovviamente bisogna seguire un percorso, bisogna ottenere un'autorizzazione, il cosiddetto un decreto, un'autorizzazione all'adozione internazionale. E quindi una sorta di lascia passare da parte del Tribunale. E avviene attraverso un percorso che si fa davanti al Tribunale per i minorenni. E quindi bisogna armarsi di santa pazienza e avere quindi la forza di denudarsi moralmente davanti agli assistenti sociali, davanti agli psicologi e spiegare le ragioni di fondo che spingono appunto quella coppia, quindi spingono noi che vogliamo adottare, appunto, a una scelta così importante. Ed è giusto che ci sia questo percorso, questo filtro, perché ci sono molte coppie che non sono assolutamente idonee ad adottare, perché credono che l'adozione possa salvare il loro matrimonio. È sbagliato. Un bambino non salva un matrimonio. Il bambino non è uno strumento per salvare un matrimonio in crisi. E questo avviene neanche quando i bambini si fanno a livello biologico, quando sono i cosiddetti figli naturali, se così si può dire. Perché è importante ritrovare l'equipo della coppia, quindi non attraverso lo strumento dell'adozione. L'adozione quindi non può essere un gesto di egoismo, appunto, ho detto prima, è un gesto d'amore e di coraggio. Se il Tribunale dovesse ritenere inidonea quella coppia, è chiaro che quella coppia può fare una sola cosa, rivolgersi ad un avvocato per fare un ricorso in appello avverso questo decreto di inidoneità. Devo dire che quasi sempre le corti di appello accolgono queste istanze, forse a mio parere dovrebbero essere un pochettino più severe, perché in molti casi poi ci rendiamo conto che quando le adozioni avvengono e viene in qualche modo fatto l'abbinamento, così si chiama, del bambino rispetto a quella famiglia, poi ci possono essere anche problemi. Non sopporto per esempio quei genitori che pretendono di scegliere l'etnia del minore, il colore dei capelli, degli occhi. Attenzione, i minorenni che noi volete adottare non sono divani da acquistare. Io ritengo che qualsiasi bambino debba avere questa possibilità di essere adottato senza essere scelto. Purtroppo capita invece qualche volta che i bambini di fatto vengono scelti e questo è sbagliato. Per esempio quando si arriva davanti alla commissione e si dichiarano cose di questo tipo, voglio un bambino bianco con i capelli biondi e gli occhi azzurri, si rischia di non avere il decreto di inidoneità ed è giusto che sia così. Ci sono gli enti autorizzati, verificate gli enti autorizzati vicini a casa vostra, ai quali poi, una volta ottenuto il decreto di inidoneità, vi dovete rivolgere per cercare questo bambino nei vari paesi del mondo. Resta il fatto che comunque le adozioni internazionali costano e quindi dovete preoccuparvi anche di chiedere all'ente autorizzato quali sono i costi per cercare un bambino in una determinata parte del mondo. Io personalmente come presidente dell'Ami da tempo invoco la gratuità assoluta delle adozioni internazionali. Per me è inconcepibile che un delinquente possa avvalersi del gratuito patrocinio magari per un omicidio volontario e non pagare il proprio avvocato e quindi a spese di tutti noi e una coppia che vuole dare amore a un bambino deve magari spendere 5, 10, 20, 30 mila Euro per un'adozione e quando parlo di queste somme parlo anche delle spese di viaggio, di soggiorno in alcuni paesi e poi lo potrete poi verificare addirittura la coppia deve rimanere per un determinato periodo in quel paese, quindi sostenendo dei costi enormi. Io ritengo che questi soldi dovrebbero essere investiti per questi ragazzi in futuro, acquistare la cameretta, sostenere i costi di studio, di sport. Purtroppo credo che sarà difficile rendere gratuite le adozioni per il momento ma è una cosa che noi dobbiamo fare perché poi si crea anche una sorta di classismo, cioè le adozioni non devono essere a pannaggio soltanto le coppie ricche, tutti, tutte le coppie dovrebbero poter adottare perché tutte le famiglie sane al di là del loro conto in banca possono dare amore a un bambino. Quindi anche questa è una cosa molto importante, al di là della mia considerazione sappiate appunto che esiste la commissione adozioni internazionali, esistono gli enti autorizzati che potete trovare su internet, parlare con i responsabili e gli enti autorizzati, sicuramente sarete seguiti da professionisti di assoluto livello, l'avvocato può darvi dei consigli, non può intervenire nell'adozione, può solo intervenire come vi dicevo prima per proporre appello a verso un decreto di inidoneità all'adozione internazionale, in questo caso l'avvocato è decisivo. Ma certamente potete consultare l'avvocato per sapere tante cose, per sapere come funziona la procedura, per avere quei consigli che vi possono dare una mano. Una cosa è certa, prima di seguire il percorso per l'adozione dovete voi coppie parlarvi e soprattutto dovete condividere questo percorso. Non è possibile che uno dei due collegi voglia adottare e l'altro debba sopportare o subire questa decisione, è una decisione che va assunta insieme nella totale consapevolezza, perché c'è anche una statistica che dice che dopo le adozioni ci sono state le separazioni, perché la coppia è entrata in crisi, quindi anche da questo punto di vista affidatevi agli psicologi, ai sociologi e a tutte quelle persone che vi possono dare una mano prima di prendere una decisione in questa portata.